Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove ci sono rallentamenti per una perdita di carico tra Firenze Scandicci e il Bivio con la 11 in direzione Bologna. A causa di lavori corsie di sinistra chiuse tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna. Ancora in A1 controllo della velocità attivo tra Chiusi Chianciano e Valdichiana in direzione Bologna. Delle statali sull'Aurelia rallentamenti per lavori tra Carrara e Querceta in entrambe le direzioni. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola rallentamenti in entrambe le direzioni per un senso unico alternato tra Brucianesi e Porto di Mezzo. Infipillè personale sulla strada per lavori tra Pisa Nord-Est e Cascina verso Firenze. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!